scopriamo la straordinaria modernità e forza espressiva dei ritratti del fayum una collezione di circa 600 ritratti funebri estremamente realistici provenienti dall'antico egitto queste opere realizzate principalmente su tavole e linee durante l'epoca romana coprivano i volti delle mummie e rappresentano una tappa fondamentale nella storia del ritratto il nome ritratti del fayum deriva dall'oasi di fayum il luogo principale di ritrovamento di queste opere questi ritratti sono notevoli per essere alcuni degli esempi meglio conservati di pittura dell'antichità offrendo uno sguardo unico e diretto sugli individui dell'epoca con la dominazione romana dell'egitto si verificarono significative trasformazioni nelle pratiche funebri mentre l'uso dei sarcofagi veniva gradualmente abbandonato entro il secondo secolo dopo cristo la tradizione di mummificare i corpi persisteva tuttavia le maschere funebri precedentemente riservate ai faraoni cominciarono a riflettere gli influssi estetici greco romani questo cambiamento includeva l'adozione di maschere in cera usate per preservare i tratti degli antenati nelle abitazioni romane una pratica che influenzò profondamente i ritratti del fayum questi ritratti rappresentano una fusione perfetta tra le usanze funebri romane ed egizie con influenze culturali che spaziano dall'egitto alla grecia e a roma questo incrocio di tradizioni ha reso possibile la creazione di ritratti veristici che coprono un marco temporale dal primo al terzo secolo dopo cristo rendendo ogni pezzo un tesoro unico di informazioni storiche culturali oltre alla loro bellezza e al loro valore storico i ritratti del fayum sono apprezzati per la loro capacità di trasmettere emozioni profonde e realistiche offrendo una rappresentazione diretta e personale degli individui dell'epoca queste opere non solo arricchiscono la nostra comprensione dell'arte funeraria dell'antichità ma ci permettono anche di connetterci visivamente ed emotivamente con persone vissute migliaia di anni fa esplorare i ritratti del fayum quindi non è solo un'immersione nella storia dell'arte ma anche un viaggio affascinante attraverso le intersezioni culturali dell'antico mondo mediterraneo se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando